Il mio progetto è un progetto per una seduta componibile composta di quattro elementi, un cilindro e tre ciambelle che diventano un gioco come un gioco per i bambini, quindi si supera l'idea di prodotto come assistante e si passa all'idea dell'interscambiabilità e della gamification pensata per degli utenti più piccoli. Insieme all'idea di design del movimento ho voluto unire quella di ecosostenibilità e quindi ho pensato a materiale al 100% riciclabile, una plastica riciclata che è tuttavia ancora in lavorazione e in prototipazione. Siamo con Gioia, siamo al Design Week di Genova e siamo con un prodotto veramente particolare del design industriale. Adesso chiediamo a Gioia di poterlo raccontare e lei ha sviluppato questo prodotto di arredo urbano all'interno di architettura nel corso di studi di design industriale. Gioia, se hai piacere raccontaci come è nata questa idea, come si è sviluppata e perché l'avete chiamato show. Sì, allora, l'idea si è sviluppata dopo che i nostri professori ci hanno proposto il brief del movimento e in particolare nella Design Week di quest'anno il tema è stato appunto quello del movimento. Abbiamo cercato di unire la seduta, che è normalmente visto come un momento statico, con il movimento per l'appunto. In che modo? Abbiamo cercato di realizzare la parte superiore della seduta in poliuretano espanso, che è un materiale notoriamente morbido, così che le persone quando si siedono effettivamente sullo sgabello devono cercare di mantenersi in equilibrio. Questo è ancora un prototipo, vero? Sì, questo si tratta di un prototipo, effettivamente dovrebbe avere l'altezza di 80 cm, questo è fatto in scala 1 a 5 e pensavamo di collocarlo all'interno della città, in zone in cui effettivamente si passa poco tempo, proprio perché è una seduta diciamo scomoda. Le persone la dovrebbero utilizzare soltanto per brevi o brevissime soste e quindi pensata ad esempio per le fermate dell'autobus oppure in momenti molto brevi in cui si aspetta, ad esempio quando si prende un caffè. Ci vuoi ricordare perché questo nome così particolare? Cosa li chiama? Si chiama SHU perché in genovese SHOW vuol dire respiro e noi ci piaceva questa idea di prendersi respiro, infatti come abbiamo nel nostro slogan, un attimo di respiro in equilibrio su SHU. Benissimo, quali sono le vostre previsioni, che cosa vi piacerebbe fare, chi volete proporre il prodotto? Allora, innanzitutto diciamo che l'abbiamo progettato per renderlo usufruibile per tutti, quindi ci piacerebbe che in generale potessero utilizzarlo tutti. Non abbiamo in particolare idea di chi possa realizzarlo, però ecco, ci piacerebbe che il nostro design possa giovare a tutti quanti, che possa essere utilizzato da più persone possibili e che possano divertirsi con l'installazione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS